Chi saranno mai questa sorta di vino, sai? Che città che lo so? Sono i curiosi qui! Ehi ragazze, ragazze, lo sapete che Alessio mi ha scritto 10 cartoline E allora premia la costenza Ecco al numero 8 la sua canzone preferita In video, il PM Don't Gonna Die Without You Ah ragazze, che sismo! Tranquillo, tranquillo, bro! Oh, whatever, baby, whatever, baby I'm about to take a fall All that I have Anything that I would not do Buongiorno amici, ci c'è l'è sempre più un altro Nella nostra Ethan Baby Show Per Alessio e Francesco, tra i tanti al numero 7 È Whitney Houston Ah Whitney, Whitney, l'ho già detto Ma il mio cuore continuo a battere per te Ehi Demi, cosa ne pensi tu dei Duran Duran? Ti piace, no? E a me questo mi piace Mi sa che te li becchi tutti E sono al numero 3 della nostra Hit Video Baby Show Con Ordinary Words E ora dopo il 2-2-2 per Mugiel di Zambacolomea numero 5 E poi quella che secondo lei è la canzone più bella È la Bella e la Bestia Cantata da Amanda Cendretti E da quel luffanchiotto di Gino Paoli Ragazzi, si vola con il numero 5 Della Hit Video Do it the Solid Baby Show Questo video è bellissimo E mi guento per tirare Quando un sole è giù E sta l'anca in un bel'immersità Ed ora il numero 4 Porta per Luisa e sua sorella Paola Che non ci date dove scrivono E per Luca di Sirono E ancora lui, Fredy Mercury E la Quick Pretender Do it well Oltre che la canzone Anche il video E se mi ha deciso E dopo, Fredy Mercury Torpa di Mille Karate Torca di Alberto A tutti i passetti sting Allora via con i Firewall Is my painting you Oggi al terzo posto Nella Hit Video Del Baby Show Is who the same All of this It works But If I ever Lose my fate E di me Ti piace il thing E di me Che mi piace E di me piace Che mi ascolò E di me piace E allora qua ragazzi Quino ha entrato Nontrenato Eh 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 Al numero due, vivere con Pasco Rossi. E ora è il momento per il numero uno e per Dario che ci manda un salutone colorato da Roma perché Dario è di Roma. E al numero uno per lui ci troviamo Paul McCartney che canta All About Deliverance. Lasciamo tutti i basso per... Paul McCartney che grazie alle vostre letterine si ritrova al numero uno. Paul McCartney che canta All About Deliverance. Paul McCartney che canta All About Deliverance. Paul McCartney che canta All About Deliverance. Se volete giocare con me, telefonatevi. Io vi risponderò e ci metteremo d'ascolto. Pronto chi parla? Pagli amici del delbisciò, vi è rispetto. Siete pronti a giocare con me? Anche oggi una nuova telefonata. Telefono. Numero. 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 Speriamo che sia in casa. Pronto. Pronto. Pronto chi parla? Luca. Sei Luca? Sì. E chi sono? E' Cinciaolin. Come stai Luca? Bene. Dove sei tu? A San Nicolò. San Nicolò dove vince di cosa? Di Piacenza. Di Piacenza? Sì. E hai quanti anni? Dieci. Dieci anni. Che emozione che hai. Sì. Senti. Sì. Giochiamo? Sì. Vediamo se vinci. Sì. Sì. Aspetta. Sì. Non stai ancora come giocare. E' i collinori hai venuto fuori. I collinori. Non la lana. Ancora? I collinori. Aspetta. Sì. Non devi giocare con la lana. Devi giocare per i collinori. Ah. Allora che collinore scegli? Allora. Che corredore ci sono? Ci sono. Il pesce. Il pesce. Il grancho o la marmotta? Eh. La marmotta. La marmotta. Io prendo il pesce. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1, partiti! La marmotta. 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 Non devi sempre fare Con l'ulli Senti Adesso Vuoi già che ci siamo che ti piace un lullo Vuoi sfidare la lana a papalotti invece che ti faccia sentire un rumore? Sì Vuoi sfidare la lana? Sì Chiamiamo poi la lana? Sì La lana a papalotti è arrivata Vediamo un po' se ce la fai con la lana a fare l'ullo L'espira L'indifiato Pronto Via! Aiuto Vabbè Mi stai spaccando la lana Mi stai spaccando la lana Adesso Fermati Fai lì Fai lì Sì Prego Che fatica Che colore sei? Viola? Sei bello viola? Sì In casa stanno preso per il matto? Sì Stanno preso per il matto? Perfetto Datevi che stanno preso per il matto Sai cosa ti mando? Sì Due belle avventure di altri videocassette E due cassette di bimbo mix Grazie D'accordo? Sì Ciao Grazie a te Ciao E' stato bravo Ciao Luca Ciao 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 Allora Al prossimo Baby Show Ciao After Da quale letterina cominciamo oggi? Cominciamo da questa Salve Guardate che bella letterina Adesso ve la leggo Allora È una letterina Oh!